è una giornata più usa come questa cosa da un biologo naturalista c'è un vaso, vediamo preleviamo un po' di acqua dal sottovaso mettiamo l'acqua dentro la porta vetrini, vellicola con cavità e adesso andremo ad osservare tutta l'attrezzatura a disposizione e un po' di acqua ciò non ne vadove Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.